La battaglia di Poitiers, una vittoria cruciale per la cristianità. La battaglia di Poitiers, o battaglia di Tours, fu combattuta il 10 ottobre del 732 tra l'esercito arabo-berbero musulmano di Al-Andalus, comandato dal suo governatore, Abidi Al-Rambi, Abidi Olal-Gfik, e quello dei franchi di Carlo Martello, maestro di Palazzo dei Remerovingi. La battaglia si svolse nei pressi di Poitiers, in Francia, e fu uno scontro decisivo per la storia dell'Europa. L'esito della battaglia fu una vittoria decisiva dei franchi, che inflissero una pesante sconfitta all'esercito musulmano. La vittoria di Poitiers ebbe un'importanza fondamentale per la cristianità. Fermò l'avanzata islamica in Europa, che sembrava inarrestabile dopo i decenni di conquiste che seguirono alla morte di Maometto, avvenuta nell'anno 632. Antefatti Nel VII secolo, l'espansione islamica aveva raggiunto la Francia. Nel 711, i musulmani avevano conquistato la Spagna e, negli anni successivi, avevano continuato a penetrare nel territorio francese. Nel 732, l'esercito musulmano era comandato da Abidi Al-Rambi, Abidi Olal-Gfik, un generale abile e valoroso. Carlo Martello, invece, era il maestro di Palazzo dei Remmerovingi. Era un uomo forte e determinato, che aveva già dimostrato le sue capacità militari. La battaglia L'esercito musulmano era molto più numeroso di quello dei franchi. Secondo le fonti, i musulmani erano circa 300.000, mentre i franchi erano solo 30.000. La battaglia iniziò con un attacco della cavalleria musulmana. I cavalieri musulmani erano armati con freelance spade e furono in grado di sfondare le linee dell'affanteria franca. Tuttavia, i franchi erano ben disposti a terra e furono in grado di respingere l'attacco. La battaglia si trasformò quindi in un combattimento corpo a corpo. I franchi, pesantemente armati, erano avvantaggiati in questo tipo di combattimento. I musulmani, invece, erano meno corazzati e meno esperti nel combattimento corpo a corpo. La battaglia durò fino al tramonto. Alla fine, i franchi ebbero la meglio, e Abidi al-Rambi, Abidi o l'Algfik fu ucciso in battaglia. Conseguenze La vittoria di Poitier ebbe conseguenze importanti per la storia dell'Europa. Fermò l'avanzata islamica in Europa, che sembrava inarrestabile. La cristianità fu salvata da una possibile conquista musulmana. La vittoria di Poitier consolidò anche la posizione di Carlo Martello. Divenne il vero potere in Francia e fu in grado di fondare la dinastia carolingia. La battaglia di Poitier nella memoria collettiva La battaglia di Poitier è stata un evento importante per la storia dell'Europa e ha avuto un profondo impatto sulla memoria collettiva. È stata spesso celebrata come una vittoria della cristianità sull'Islam. Nel Medioevo, la battaglia di Poitier fu oggetto di numerose opere letterarie e artistiche. È stata rappresentata in dipinti, affreschi, poemi e canzoni. Nel corso dei secoli, la battaglia di Poitier ha continuato ad essere ricordata come un evento cruciale per la storia dell'Europa. È ancora oggi considerata una vittoria importante per la cristianità. La battaglia di Poitier